Decise di chiedere il divorzio perché il loro forno faceva schifo. Le torte uscivano tutte bruciate di sotto e da una parte e crude sopra. La manopola non aveva le tacche di regolazione e naturalmente il forno non aveva il grill. Di tanto in tanto una torta riusciva perfetta. Del tutto accidentalmente azzeccava la temperatura giusta, il tempo giusto, e si ricordava di ruotarla di 90 gradi a tre quarti della cottura. Così lui si rifiutava di comprare un forno nuovo, forte di quella casualità. Ovviamente non erano poveri, il problema non era questo, al contrario. Possedevano elettrodomestici in quantità e in casa loro gli strumenti tecnologici di rito erano costantemente aggiornati. Ma un forno nuovo, quello no, non era considerato da suo marito un desiderio legittimo. Quando gli comunicò la sua intenzione di divorziare, lui rise e continuò a scaricare la posta elettronica dal portatile senza neppure voltarsi a guardarla. Lei allora gli chiese, non ti interessa sapere perché voglio il divorzio? Lui le rispose, no, ma se proprio non puoi farne a meno, dillo. E lei le lo disse, lo voglio perché voglio un forno nuovo e forse anche una vita nuova. Quella che ho non mi piace più. Anzi, adesso che ci penso, non è neppure la mia vita, è la tua. Lui fece scorrere la pagina con il cursore e le disse che era pazza. Scelse un avvocato duro, perché lei non lo era per niente e qualcuno doveva pur esserlo, e poi perché era abituata a credere che gli uomini duri fossero forti. L'avvocato era severo e di modi spicci, la incalzava a parlare in fretta, così dopo un po' le cose che le uscivano non assomigliavano più a quelle che voleva dire. Le ricordava suo padre, aveva anche lo stesso tic all'occhio sinistro. Quando si irritava, il tic decollava. Si irritò tre volte durante i 35 minuti del colloquio, si affrettò a dargli ragione, poi se la sarebbe vista lei in qualche modo. Quando si trattava di cedere alle prime avvisaglie di irritazione maschile, non la batteva nessuno. Suo marito si trasferì a casa della caposala. Quando gli amici comuni glielo riferirono un po' alla volta, la nebbia che aveva nel cervello si diradò e comprese. Ecco perché quella donna l'aveva sempre trattata come un'importuna al telefono. E' quella volta che l'aveva fatta aspettare 20 minuti nella sala d'attesa con i pazienti. Aveva attribuito questo atteggiamento all'efficienza, perché nutriva una segreta ammirazione anche per le donne dure. Si stupì invece di non provare dolore per il tradimento del marito, e pensò che forse anche il suo cuore era morto insieme al loro matrimonio. Con lui dalla casa sparì tutta la tecnologia, più le file di videocassette e di cd e i dvd e i deprimenti quadri astratti, il tappeto a motivi geometrici e il divano nero di pelle del soggiorno. Ebbe la fuggevole visione della caposala che vi si sedeva, con calcolata lentezza, cavallando le cosce come Sharon Stone in Basic Insted, e provò una fitta di gelosia. Abbastanza piccola, però, e solo perché non aveva ancora fatto il callo all'idea. Erano rimasti in compenso i brutti mobili firmati, freddi e inutili, e interi annali di riviste mediche che nessuno aveva mai letto, che lui l'aveva diffidata a rimuovere e che lei aveva spolverato per anni inutilmente. Regalò i mobili alla parrocchia, perché non sapeva come fare a portarli in strada, anche se quell'idea le piaceva di più. Poi trasferì i pesanti cartoni con le riviste nell'ascensore e da lì nei contenitori gialli della differenziata. Del soggiorno le interessavano solo gli scaffali, per i suoi libri. Il fine settimana lo trascorse a scollare la moquette grigio antracite dal soggiorno e a lucidare il vecchio pavimento di legno che le era sempre piaciuto. La domenica pomeriggio, ormai a pezzi per la fatica, trascinò giù dalla soffitta quattro pesanti scatoloni con i suoi adorati libri. Seduta sul pavimento, aiutandosi con le forbici della cucina, aprì il primo, romanzi d'amore, i suoi preferiti. Li aveva letti d'un fiato, con avidità, perdendo la nozione del tempo mentre leggeva. L'avevano fatta sognare ad occhi aperti, entusiasmarse e soffrire con i loro personaggi, più amici dei suoi stessi amici. Quel giorno, invece, rivedendoli tutti in una volta, provò un senso di fastidio. L'era sufficiente, infatti, scorrerli velocemente per rendersi conto di quanto i loro contenuti fossero inconsistenti ed ingannevoli. Se erano quelli i libri sui quali la sua giovane mente si era modellata, non c'era da stupirsi che la sua vita avesse preso una dirittura così fallimentare. Al terzo scatolone trovò il libro del Feng Shui, che era convinta di aver prestato a qualcuno, anche se non si ricordava a chi. Il sottotitolo annunciava che nel Feng Shui erano racchiusi gli insegnamenti necessari a cancellare le ombre del passato dalla propria casa e dalla memoria. Gli credette, perché credeva ai libri e perché non aveva nessun altro in cui credere. Si sedette più comoda e iniziò a sfogliarlo a caso. A pagina 32, il libro parlava delle cianfrusaglie di carta. I libri, diceva, rappresentano le nostre convinzioni. Se continuiamo a conservarli quando non ci rappresentano più, ci inducono a rimanere sempre sullo stesso binario. Il capitolo terminava con un incoraggiamento. Regalateli quando arriva il momento e andrete avanti verso nuove cose. Il mattino dopo strisciò i pesanti contenitori fino al baule della macchina e li scaricò davanti alla biblioteca del quartiere. Incominciò a sentirsi più leggera.